A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per esservi collegati. Il tema del webinar di oggi sarà la subintensiva respiratoria per il trattamento dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Interverrà il dottor Nicola Facciolongo, della struttura complessa di pneumologia a Cispedale Santa Maria Nuova, Ausl, Irx, Reggio Emilia. Eventuali domande al relatore possono essere inserite nell'apposita sezione. Passo la parola al dottor Facciolongo. Bene, grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti a questo webinar. Colgo l'occasione per ringraziare il dottor Adriano Vaghi e il dottor Zerbino per avermi dato la possibilità di fare questo intervento e tutto lo staff di Aipo Ricerche che ci ha supportato su questa cosa. Oggi parleremo di un argomento abbastanza caldo nel senso che ha avuto una serie di discussioni, una serie anche di accese valutazioni in questo periodo e che la subintensiva respiratoria nel trattamento dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 in quanto non esistono delle indicazioni precise in questo senso. Per cui ho provato a ricostruire un po' una storia della tipologia di paziente che noi ci siamo trovati a dover trattare e capire un attimo le perplessità o le certezze da dove possano arrivare. Noi ci siamo trovati a trattare pazienti di questo tipo, pazienti che hanno sviluppato un'insufficienza respiratoria acuta su una polmonite cosiddetta interstiziale bilaterale anche molto estesa associata anche a dei consolidamenti come potete vedere in questo caso. Ci siamo trovati tutti di fronte al trattamento di pazienti che erano nuovi da un certo punto di vista. Anzi, all'inizio in realtà abbiamo cercato di rassimilarli a dei prototipi che a noi sono molto più noti come le normali patologie interstiziali legate ad altre patologie come quelle reumatologiche e come le fibrosi polmonari. In realtà ci siamo accorti quasi subito che i pazienti non erano così semplici. Ci siamo trovati di fronte a delle caratteristiche completamente diverse. Intanto le caratteristiche cliniche sono che pur essendo il polmone un organo colpito in maniera elettiva i pazienti che arrivavano alla nostra osservazione erano prevalentemente pazienti obesi, pazienti diabetici, pazienti ipertesi, i pazienti con malattie cardiovascolari e queste sono le prime valutazioni che sono state fatte in Cina che sono i primi che hanno avuto a che fare con questo tipo di pazienti, dove si vede una cosa già abbastanza inaspettata almeno dal nostro punto di vista, cioè che i pazienti con delle patologie croniche o struttive polmonari rappresentavano in effetti una parte molto piccola della casistica di questi pazienti. Questa è una serie abbastanza grande, forse la più grande di quella che è stata pubblicata, dove si presentava circa un 1,1% di incidenza. Questo è stato poi confermato da questo studio, dove si prende una corte di pazienti ricoverati in Lombardia in delle terapie intensive, dove confermano sostanzialmente questo dato, cioè tutti i pazienti che sono prevalentemente di tipo cardiovascolare e i pazienti con COPD, vedete, rappresentano circa il 4% della popolazione. È un dato che abbiamo rilevato anche noi in una casistica nostra qui della provincia di Reggio Emilia appena pubblicata, dove abbiamo anche qui confermato più o meno la stessa tendenza, anche se abbiamo visto che forse l'incidenza dei pazienti con COPD era leggermente più elevata. Vi ho già detto che questi sono pazienti che sviluppano un'insufficienza respiratoria acuta molto rapidamente. Su questo studio si è cercato di fare un po' una specie di planning del tipo di andamento clinico di questa insufficienza respiratoria e si vede che all'incirca nella seconda settimana di malattia o dalla infezione può insorgere in pazienti che hanno delle caratteristiche specifiche, può insorgere l'insufficienza respiratoria. Vedete, però anche in questo caso, in questo studio, si evidenzia che i pazienti che vanno incontro all'insufficienza respiratoria acuta venivano trattati con ossigenoterapia, con maschera di ventura e altro, oppure, se non rispondono, questi pazienti vanno direttamente a ventilazione meccanica di tipo invasivo, anche perché le lesioni a livello polmonare sono state interpretate come lesioni da ARDS, quindi trattate in questo modo. Sempre da casistica cinese siamo andati a vedere un attimino come sono stati trattati questi pazienti, soprattutto quelli più gravi, e si vede, per esempio, scusate, si vede in questo caso che la ventilazione meccanica non invasiva è stata utilizzata solo nel 14% dei casi, però anche la ventilazione meccanica invasiva non è stata utilizzata molto, il 17% dei casi con una mortalità elevatissima, perché se vedete 24 pazienti su 26 non sono sopravvissuti e 31 pazienti su 32 non sono sopravvissuti alla ventilazione meccanica invasiva. Anche questa casistica non tanto grande, sempre di pazienti trattati in Wuhan in Cina, presentano più o meno le stesse caratteristiche, cioè che i pazienti vengono prevalentemente trattati con ossigenoterapia, che possa essere ossigenoterapia con maschera di ventura o ossigenoterapia ad alti flussi, mentre una piccola quota viene trattata con ventilazione non invasiva, fino ad arrivare ad una casistica un pochettino più grande, questa su 138 pazienti, dove anche qui si mantiene sempre la stessa tendenza, quindi piccoli gruppi di pazienti trattati con ventilazione non invasiva e piccoli gruppi di pazienti trattati in ventilazione meccanica invasiva, prevalentemente in un setting di terapia intensiva. Questa è la casistica più grossa che è stata pubblicata sempre in Cina su 1099 pazienti, dove anche qui si vede che la maggior parte dei pazienti, soprattutto quelli che hanno sviluppato un'insufficienza respiratoria severa, per il 71% sono stati trattati soltanto con ossigenoterapia, mentre con ventilazione meccanica invasiva o non invasiva, un piccolo gruppo di pazienti, anche se in questo caso si evidenzia, che la ventilazione non invasiva è stata utilizzata in maniera più importante. Sembra quasi, ma anche all'interno se si vanno a leggere questi studi, si vede che la ventilazione non invasiva è stata utilizzata, però quasi in sordina, cioè anche i dati, ci sono pochi dati che vengono evidenziati su come è stata utilizzata, che tipo di ventilatori sono stati utilizzati, eccetera. Quindi è un dato che si cerca di evincere tra le righe di queste pubblicazioni. Arriviamo invece sempre alla pubblicazione, vi ho fatto vedere prima, del gruppo degli intensivisti Lombardi, che ha pubblicato questa casistica abbastanza grossa su un numero di 1300 pazienti, anche se il setting qui è completamente diverso, perché sono tutti i pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, dove si vede che l'88% di questi pazienti è stato trattato con ventilazione meccanica invasiva e solo l'11% con ventilazione non invasiva. Sapete bene che in Italia si è fatta una scelta probabilmente diversa, almeno all'inizio, perché queste insufficienze respiratorie acute si sono manifestate immediatamente con dei dati di PF molto bassi, fra i 300 e i 200, ma anche molto al di sotto del 200. Vedete qui la media dei PF in questi pazienti è circa 168. C'è stata una variazione, una stratificazione per età, mentre la ventilazione meccanica non invasiva è stata utilizzata relativamente poco, con una mortalità del 26%, anche se qui c'è da dire che al momento della pubblicazione dello studio circa l'80-85% dei pazienti erano ancora in terapia intensiva. Da dove nasce questa diffidenza nell'utilizzo della ventilazione meccanica non invasiva? Nasce un po' da lontano, perché voi sapete che molti sono stati gli studi pubblicati, ma vi faccio vedere questo che forse è uno dei più recenti, sulle linee guida ERS-ATS, sull'utilizzo della ventilazione non invasiva per le insufficienze respiratorie acute, dove alla domanda precisa se si può usare la NIV nelle insufficienze respiratorie de novo, la risposta in realtà è che non ci sono sufficienti evidenze per poter emettere una raccomandazione per l'uso della NIV appunto nelle insufficienze respiratorie acute. Si argomenta tra l'altro dicendo che è vero che alcuni studi hanno manifestato che la NIV ha mostrato che la NIV ha una certa tendenza nella prevenzione dell'intubazione, però non raggiunge gli end point, soprattutto per quanto riguarda la mortalità. Più recentemente invece fra marzo e aprilio sono usciti una serie di documenti che hanno detto delle cose abbastanza chiare in questo senso. Questo è il documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dove evidenzia che l'utilizzo dell'ossigenoterapia con alti flussi riduce il bisogno dell'intubazione, chiaramente se si parla di pazienti non ipercaplici, emotinamicamente stabili, che non abbiano una MOF e così via. Però pone la condizione che questo deve essere fatto in setting particolari, in setting in cui ci sia del personale esperto e che all'occorrenza si possa intubare i pazienti. Ci sono delle raccomandazioni anche per quanto riguarda l'utilizzo della NIV dove in effetti si dice che non esiste una raccomandazione per l'uso della NIV nella insufficienza respiratoria di tipo iposiemico o nelle malattie pandemiche a causa virale, sempre con la giustificazione che questo tipo di pratica può indurre un ritardo nell'intubazione dei pazienti e soprattutto può indurre un danno a livello polmonare per un aumento prolungato della pressione negativa a livello intratorazio che determina un'ingiuria al polmone stesso. Dopodiché si dice anche che nel caso in cui si debba fare comunque della NIV debba essere fatta assolutamente in un ambiente monitorato con del personale che sia esperto. E questo chiaramente è una cosa che è stata discussa ed è stata evidenziata moltissimo su moltissimi documenti tra cui questo della Visitoral Society che evidenzia che lo staff che esegue la NIV deve essere uno staff che deve essere altamente addestrato e molte sono le documentazioni che hanno dimostrato che la NIV fatta da personale è in setting adeguati da risultati decisamente migliori se fatti in setting invece non adeguati. Quindi si conclude in questo documento che l'alto flusso dovrebbe essere usato in pazienti selezionati con insufficienza respiratoria ipossiemica che la non invasiva dovrebbe essere usata esclusivamente in pazienti selezionati e che tutti e due devono essere eseguite in ambienti chiusi, monitorati e con del personale addestrato. Anche l'NIH ha pubblicato in aprile del 2020 le proprie raccomandazioni riguardo al trattamento delle insufficienze respiratorie ipossiemiche in merito di pandemia da Covid-19 dove si vede che anche qui viene raccomandato l'ossigeno ad alti flussi oltre la ventilazione non invasiva soprattutto nei pazienti in cui non c'è un'indicazione chiara all'intubazione o quando l'ossigeno terapia ad alti flussi non è possibile o comunque non è disponibile. Arriviamo in Italia. La SIARTI pubblica questo documento credo in febbraio-marzo del 2020 dove in effetti evidenzia il fatto che nei pazienti che presentano una polmonite interstiziale bilaterale con insufficienza respiratoria acuta in terzo stadio la terapia è quella dell'ossigeno terapia convenzionale ma nel caso in cui non si è efficace necessaria una consulenza reanimatoria è valutare un tentativo di ventiloterapia non invasiva. Vedete qui dice valutare un solo tentativo di ventilazione non invasiva dando anche delle indicazioni delle indicazioni che adesso vi farò vedere più nel dettaglio. Quindi alti flussi con almeno 50 litri al minuto fino ad arrivare a 60-70 litri al minuto fino ad arrivare a un 60% di FU2 che può essere anche innalzata. La nota è quella in cui non esiste una chiara indicazione in merito all'uso degli alti flussi nelle insufficienze respiratorie eposemiche acuta e in relazione soprattutto in termini di mortalità. Quindi viene sottolineato il fatto che la procedura espone a un rischio di contaminazione aerea non perfettamente quantificabile. C'è da dire che in letteratura si è parlato moltissimo di alti flussi e di ventilazione non invasiva soprattutto per il rischio di contaminazione più che per gli effetti che possa avere in effetti sui pazienti. Per quanto riguarda la ventilazione non invasiva invece anche qui si dice di eseguire un tentativo della durata massima di un'ora dopodiché fare un'emogasanalisi per valutare se questa sta avendo qualche effetto monitorando molto attentamente la meccanica respiratoria e la frequenza respiratoria. Si utilizzano delle CIPAP a 10 cm d'acqua con F2 al 60% oppure pressioni di supporto che non devono superare il 10-12%. Sulle interfacce si possono usare sia le maschere che i caschi però consigliano il casco proprio per evitare quelle problematiche di aerea solizzazione che però possono essere chiaramente superate con dei piccoli accorgimenti che per esempio in un webinar che è stato fatto qualche tempo fa la collega Lara Pisani ha fatto vedere molto molto bene che possono essere superate. La nota importante a cui fa riferimento sempre il documento della SIAT è che comunque anche in questo caso non esiste alcuna chiara raccomandazione all'uso della NIV in corso dell'insufficienza respiratoria acuta ipossiemica soprattutto quando si tratta di forme severe quindi al di sotto di un PF di 150 per cui se proprio deve essere eseguita deve essere fatta in reparti in alta intensità di cure con pronta disponibilità all'intubazione orotracheale facendo riferimento praticamente a un quadro di ARDS però in realtà noi non siamo certi noi fino adesso ci siamo comunque rifatti ad un paradigma che è quello dell'RDS perché era quello che noi conosciamo meglio per cui ci siamo trovati di fronte a insufficienze respiratorie ipossiemiche con polmoniti bilaterali che mimavano un po' l'RDS ma probabilmente andando a ventilare questi pazienti ma non solo non invasivamente ma anche invasivamente ci siamo trovati con delle incongruenze ma anche valutando i pazienti clinicamente abbiamo visto pazienti con gravissime insufficienze con PF al di sotto di 150 con una sensazione di dispnea quasi nulla e con frequenze respiratorie normali per cui ci siamo posti che in effetti forse il modello non fosse quello adeguato io qui vi faccio vedere questo lavoro che è stato pubblicato all'Oceano Gattinoni non più tardi della settimana scorsa che evidenzia la possibilità che ci troviamo di fronte a dei fenotipi differenti argomentando a suo modo e a suo pari soprattutto che mi trovo abbastanza d'accordo perché in effetti si parte dal presupposto che la gravità dell'insufficienza respiratoria spesso è dovuta prevalentemente a tre fattori di base cioè la severità dell'infezione le caratteristiche dell'ospite e delle comorbidità la risposta ventilatoria all'ipossemia e alla durata dall'inizio della malattia fino all'osservazione in ospedale viene proposto un meccanismo fisiopatologico che secondo me è estremamente interessante in cui in questo tipo di pazienti l'ipossemia non ha una base alveolare ma una base vascolare legata alla vasocostrizione e alla vasoplegia per cui c'è una risposta all'ipossemia legata ad un aumento della ventilazione minuto un aumento del volume corrente che messi assieme comportano un aumento della pressione negativa intratoracica ci sono dei meccanismi che ancora adesso non sono noti che provocano un aumento del drive respiratorio con una riduzione della PACO2 ma la cosa importante è che questi sono pazienti che presentano una compliance quasi normale quindi qui questo chiaramente stride molto con l'ipotesi che noi abbiamo fatto che quella dell'RDS dove le compliance sono chiaramente patologiche sono patologiche ma soprattutto si vede anche che questa pressione l'aumento della pressione negativa intratoracica che è un valore negativo per indurre un danno al polmone è indotto più che altro dalle condizioni stesse del paziente più che dagli effetti esterni in più gli alveoli sono areati perché la quantità di gas è rimasta normale ma non sono perfusi e quindi hanno una bassa recutabilità cosa succede? se questa condizione tende a riterarsi nel tempo l'aumento della pressione negativa intratoracica se si associa poi ad un aumento della permeabilità alveolare data dall'infiammazione dalla tempesta citochinica che noi abbiamo ben conosciuto in questi pazienti si provoca un edema interstiziale che tende a quel punto ad andare ad inondare gli alveoli quindi si vede che il ground glass e i consolidamenti non sono più solo periferici sulle radiografie del torace ma diventano poi generalizzati quindi il polmone diventa più pesante e ci si avvicina invece molto di più a quello che è il modello della RDS tant'è che vengono quindi suddivisi due tipologie due fenomeni fenomenologie di pazienti che sono il type L cioè quelli con una bassa elastanza e un'alta compliance un basso rapporto ventilazione per fusione legato proprio al discorso alla causa di tipo vascolare a un polmone che è areato che quindi non è pesante e quindi ha una scarsa recrutabilità degli alveoli dei pazienti a differenza invece del tipo H che ha invece un'alta elastanza ha uno shunt molto importante il polmone diventa pesante quindi è un modello che si avvicina molto di più a quello della RDS con la recrutabilità degli alveoli queste sono le due tipologie di pazienti che noi abbiamo visto ma che anche i nostri amici rianimatori hanno potuto vedere nel loro coso perché spesso hanno dimostrato il fatto che non tutti i pazienti per esempio rispondevano alla pronosupinazione nel trattamento in ventilazione meccanica invasiva e anche noi nella ventilazione non invasiva che abbiamo applicato la pronazione anche se non completa abbiamo avuto pazienti che hanno risposto in maniera ottima a pazienti che invece non hanno risposto minimamente quindi essendo il modello quindi diverso lo stesso Gattino riconglude che nel tipo L il paziente quindi con una scarsa dispnea ma che ha un'insufficienza respiratoria grave può avere un'opzione di cura con gli alti flussi e con la ventilazione con la ventilazione non invasiva in quanto in questo caso non è necessario avere una recrutabilità molto alta tant'è che si è cominciato a dire che non è necessario avere delle pipo molto elevate basta avere delle pipo al massimo 8-10 cm d'acqua in quanto questo è un polmone scarsamente recrutabile questo si era visto anche nelle casistiche cinesi dove hanno utilizzato dei valori di pipo molto bassi mentre noi tutti ma compresi gli animatori ma anche noi all'interno delle terapie intensive respiratorie abbiamo utilizzato all'inizio delle pipo molto elevate anche 13, 14, 15 e io credo che per non dico la prima volta ma da moltissimo tempo non vedevo più dei premotoraci cosa che invece abbiamo in trattamenti di pazienti con ventilazione non invasiva che invece abbiamo visto abbiamo visto ultimamente con un consiglio chiaramente il consiglio era quello invece di avere un attento monitoraggio anche invasivo attraverso la pressione esofagea per poter stabilire in maniera precisa quale pip applicare a questi pazienti quindi detto questo vedete che il quadro è abbastanza complesso e complicato per cui diventa difficile dare delle indicazioni a questo punto io quello che vi posso dire è che vi posso mostrare la nostra esperienza sull'utilizzo della ventilazione non evasiva all'interno delle subintensive e anche il setting che abbiamo messo in campo che abbiamo messo in campo noi questa è una review della regione Emilia Romagna dove vedete che abbiamo avuto un aumento del numero dei pazienti infetti tant'è che siamo diventati di gran lunga la prima provincia dell'Emilia Romagna anche se questo è un dato per onestà bisogna dirlo un po' falsato soprattutto soprattutto dai primi di aprile perché noi abbiamo cominciato a fare molti tamponi siamo quelli che abbiamo fatto più tamponi in tutta l'Emilia Romagna però sicuramente siamo subito dietro Piacenza che per rapporto fra casi e numero di popolazione è sicuramente più alta più alta della nostra abbiamo avuto un periodo che va dalla metà di marzo fino ai primi di aprile dove abbiamo avuto accessi al pronto soccorso in questo momento siamo arrivati abbiamo avuto circa più di 2000 accessi al pronto soccorso in questa è una una piccola review praticamente di quasi una ventina di giorni sono state circa 1000 accessi al pronto soccorso di cui per polmonite da covid di cui il 50% 56% mandato a casa è trattato a domicilio mentre invece circa 400 pazienti sono stati ricoverati in questo momento possiamo dire che in tutto fra tutti gli ospedali fra il nostro ospedale gli ospedali covid che abbiamo che abbiamo aperto eccetera abbiamo circa più di di 1000 di 1000 pazienti 1300 pazienti ricoverati la popolazione questo è una valutazione fatta sulla nostra provincia la popolazione più o meno ricalca vede su un campione di 2653 pazienti ricalca più o meno quello che vi ho fatto vedere che vi ho fatto vedere fino fino adesso e questi sono i pazienti che sono che questo è un po' il grafico delle tipologie di pazienti del numero di pazienti che sono entrati nella nostra terapia semintensiva noi abbiamo un reparto che in tempi in tempi di normalità aveva una terapia semintensiva di 6 posti letto durante l'emergenza covid siamo stati trasformati in 32 posti letto tutti tutti ventilati o con alto o con alti o con alti flussi questo chiaramente ha comportato tutta una serie di problematiche che poi vi farò vedere vi farò vedere dopo circa 140 pazienti dati aggiornati fino a qualche giorno fa dove 78 hanno fatto un supporto ventilatorio con ventilazione non invasiva 26 in ventilazione meccanica invasiva 22 con uno ossigeno terapia convenzionale sette pazienti invece con air con air che noi abbiamo usato molto in questa casistica non compare ma abbiamo usato molto spesso in svestamento dalla ventilazione dalla ventilazione meccanica invasiva le caratteristiche dei pazienti direi semplicemente un dato che possono essere così abbastanza caratteristici cioè per esempio i pazienti non fumatori sono sicuramente la maggioranza il BMI sono tutti pazienti obesi quasi 30% di BMI con quasi tre comorbilità che sono quelle che vi ho già detto è un SOFA index elevato i sintomi sono più o meno quelli che abbiamo detto abbiamo trattato pazienti con un livello di consolidazione attraverso lo score radiologico superiore al 40% quindi pazienti con delle TAC molto come dire impegnate la cosa strana ma quello che vi invito a guardare è questo che per esempio nella nostra premologia la media del PF dei pazienti trattati è 119 che è una media che in tempi non sospetti sarebbero intubati in rianimazione già da moltissimo tempo però noi ci siamo trovati nelle condizioni in cui le rianimazioni erano completamente piene e quindi noi abbiamo dovuto trattare pazienti che spesso non riuscivamo a ricoverare in rianimazione e quindi li abbiamo trattati però devo dire che abbiamo avuto anche dei buoni risultati perché nel giro di nel giro di sette giorni abbiamo di sette giorni abbiamo avuto un andamento del PF in miglioramento che è statisticamente significativo a giustificazione del fatto che la ventilazione meccanica non invasiva quando fatta in maniera corretta in questo tipo di pazienti in questo tipo di patologia ha sicuramente un suo spazio i nostri outcome abbiamo avuto un successo del 50% che a qualcuno potrebbe sembrare poco ma in realtà è molto alto rispetto a quello che viene pubblicato nel diciamo quello che è stato pubblicato fino adesso tenendo conto che dati anche della Lombardia ponevano invece una percentuale di fallimento dell'80-85% della NIV quindi riteniamo che questo sia un risultato estremamente interessante con un 27% di pazienti che invece sono andati verso l'intubazione intubazione tracheale e 23% di decessi tenendo conto che di questo 23% circa il 20% non aveva nessuna elegibilità per essere portato in terapia intensiva questi sono i pazienti questi sono i trattamenti farmacologici che noi abbiamo utilizzato ed è un dato che qui ancora no ma sull'analisi dei dati che stiamo facendo i pazienti che hanno eseguito il tocilismo avevano avuto un outcome decisamente migliore rispetto agli altri non abbiamo il dato ancora sul cortico steroide in quanto noi abbiamo cominciato a fare i boli di steroide da un grammo e stiamo partecipando ad un protocollo in questo senso solo da poco e quindi i dati non sono ancora disponibili le ultime diapositive per farvi vedere il settico organizzativo della terapia subintensiva respiratoria che abbiamo dovuto mettere in atto molto molto rapidamente questo ho avuto già occasione di dirlo in un precedente webinar noi abbiamo ci siamo organizzati per attraverso un sistema di intensità di cure in quanto ci siamo messi in una posizione intermedia fra i reparti fra i reparti che avevano a gestione pazienti di bassa intensità di bassa complessità clinica in quanto i pazienti che poi tendevano a peggiorare quindi che andavano in insufficienza respiratoria acuta venivano scrinati attraverso o un passaggio verso la semi intensiva respiratoria o la rianimazione questo veniva fatto attraverso delle riunioni giornaliere che venivano fatte due volte al giorno insieme agli animatori e agli infettivologi e insieme agli intensivisti dell'area medica che è stata in questo caso trasformata anche questa in area covid questo sistema ha permesso di creare una specie di cuscino di salvaguardia verso i letti di rianimazione che sono stati triplicati nella nostra azienda ma che comunque nei momenti di altissima criticità hanno sempre presentato un fattore critico e quindi noi abbiamo fatto veramente un lavoro di filtro che è stato estremamente che è stato estremamente utile è ancora utile il nostro ruolo in questo momento come dissarge alla rianimazione dei pazienti che sono che sono ancora adesso ventilati o tracchiostomizzati e che necessitano quindi di un trattamento di svezzamento e decannulazione per poi essere trasferiti in riabilitazione respiratoria o in medicina fisica riabilitativa per covid più o meno che ha permesso quindi di avere un percorso assolutamente virtuoso di scarico di questi pazienti per poi ritornare al domicilio quando riescono o eventualmente in aree di osservazione e isolamento per fare tutto ciò abbiamo dovuto rivedere completamente tutti i nostri protocolli abbiamo dovuto fare una condivisione dei protocolli con gli infettivologi con i rianimatori con i riabilitatori in questa ultima fase che ci ha permesso quindi di avere una gestione univoca di questi pazienti e soprattutto una motivazione e un impegno dello staff medico infermieristico naturalmente aumentando in maniera così rapida la complessità di questi pazienti abbiamo dovuto inserire all'interno dello staff nuovi infermieri e anche nuovi medici che non avevano esperienza in questo senso che quindi hanno dovuto subire un addestramento molto rapido e intensivo su questi su questi pazienti ma che hanno dato dei risultati eccezionali soprattutto all'inizio c'è stato un grossissimo investimento sull'addestramento delle procedure di protezione dei pazienti e degli operatori che è una cosa fondamentale per evitare l'infezione e quindi la defezione del personale nella cura dei pazienti e devo dire che i risultati che abbiamo avuto in termini di malattia del personale ci hanno molto premiato da questo punto di vista come vi dicevo prima le linee guida della BTS hanno evidenziato che ci vuole un setting assolutamente specifico per questo tipo di pazienti noi abbiamo dovuto trasformare completamente il reparto aumentando per avere una tipologia di monitoraggio che fosse soddisfacente per i parametri respiratori parametri cardiaci la pressione arteriosa temperatura abbiamo messo telecamere di controllo in tutte le stanze con delle centraline con centraline per fare una valutazione H24 dei pazienti cosa che c'era già nella nostra terapia semitesiva respiratoria e poi tutti i pazienti telemetrati per tenere sotto controllo i parametri i parametri i parametri vitali la tipologia del supporto ventilatorio come vi ho già fatto vedere i numeri prima ossigeno ad altiflusso con con aero eccetera e la modalità di ventilazione secondo me è estremamente importante noi abbiamo usato prevalentemente modalità di ventilazione pressometrica in assistita controllata con un PSV non superiore a 10-12 cm d'acqua e con delle HEPAP che non hanno mai superato gli 8-10 almeno nella prima settimana abbiamo utilizzato HEPAP molto superiori ma poi siamo tornati indietro davanti all'evidenza che probabilmente per i pazienti non era era un regime non sopportabile anche la tipologia dei ventilatori a mio avviso è estremamente importante in questo questi sono più o meno i ventilatori che abbiamo utilizzato ne mancano anche alcuni perché naturalmente abbiamo dovuto raccattare tutto quello che avevamo che avevamo a disposizione però abbiamo avuto degli ottimi ventilatori qualcun altro ha dimostrato dei limiti nell'uso su pazienti con questo tipo di caratteristiche e di gravità abbiamo privilegiato la ventilazione con ventilatori doppio tubo proprio per evitare al minimo la dispersione la rassolizzazione e anche perché i ventilatori di alta fascia ci permettono sicuramente un monitoraggio del paziente molto molto migliore la molto migliore scusate non è corretto comunque è molto più affidabile e hanno la possibilità di valutazione anche della meccanica della meccanica respiratoria noi abbiamo utilizzato prevalentemente interfacce con maschera con maschera i caschi li abbiamo usati pochissimo per tutta una serie di motivazioni è vero che riducono l'infettività perché aerosolizzano di meno però la come dire la togliere il casco di questi pazienti non è semplicissimo ed è sicuramente molto a rischio per quanto riguarda l'infettività l'effettività e tra l'altra parte questi pazienti hanno spesso fatto dei trial di ventilazione continua per più giorni e in effetti il casco in questo caso non è da molti pazienti non è ben non è ben tollerato comunque è sicuramente un'interfaccia utile dipende poi molto dall'expertise dei centri abbiamo evidenziato anche che è assolutamente mandatoria e necessaria una rieducazione funzionale dei pazienti per lunghe permanenze e terapia superintensive quindi il supporto fisioterapico riabilitativo è fondamentale e abbiamo visto anche che questi pazienti pur avendo delle lunghe permanenze e terapia intensiva una volta fuoriusciti da questi hanno dei recuperi che sono abbastanza rapidi quindi nel giro di una settimana 15 giorni si rimettono in piedi e hanno quindi delle performance sicuramente ottime abbiamo dovuto fare anche delle modifiche strutturali per ridurre al minimo l'aerosolizzazione ci vuole la pressione negativa questa è un'immagine della nostra di una parte del nostro reparto all'esterno dove in due giorni è stata messa in atto la pressione negativa e ha reso tutto il reparto in questo momento pressione negativa in modo tale da ridurre al minimo il rischio per gli operatori quindi questo è anche una dimostrazione che quando si vuole si riesce in effetti a dare le prestazioni migliori anche dal punto di vista strutturale e non solo medico concludo con questa immagine questo è uno dei nostri primi pazienti che dopo 13 giorni di ventilazione non invasiva ha ripreso completamente e quando è stato dimesso ci ha fatto questo regalo e questo questo segno di ottimismo che in un momento in cui onestamente l'ottimismo non era proprio il sentimento che tutti quanti noi avevamo perché vedevamo le cose in maniera molto molto buia detto questo io concludo e vi ringrazio per l'attenzione grazie dottor Facciolongo ci sono alcune domande per lei allora la prima domanda è in questi pazienti qual è teoricamente il miglior comportamento per gestire la nutrizione in fase acuta questa è una una bella domanda soprattutto se contestualizzata con i pazienti covid i pazienti covid in effetti hanno avuto seri problemi di capacità di nutrimento perché sono pazienti che spesso non mangiavano non mangiavano non mangiano hanno uno scarso senso della fame per cui abbiamo dovuto in effetti porci questo problema in maniera specifica noi l'abbiamo risolto mettendo il sonnino nasogastrico a tutti perché molto spesso questi pazienti non riuscivano a staccarsi della maschera per poter per poter alimentarsi perché le saturavano in maniera molto rapida per cui abbiamo preso come protocollo quello dell'inserimento del sonnino nasogastrico a tutti con l'accortezza di cambiare la sede spesso perché con la maschera si possono creare dei decubiti e abbiamo alimentato i pazienti in questo modo fino a quando poi fino a quando poi chiaramente il paziente raggiungeva un grado di autonomia devo dire che il sonnino nasogastrico è stata una scelta anche abbastanza azzeccata per un altro motivo perché questi pazienti hanno avuto spessissimo grossi problemi sia di tipo elettrolitico con alterazione degli elettroliti per disidratazione o iperidratazione eccetera per cui la correzione anche degli elettroliti per via sondino è stata molto consigliata ma soprattutto molto utile soprattutto quando dovevano dovevamo infondere dei volumi di acqua molto elevata e ha risolto anche alcuni problemi tenendo conto che questi sono pazienti che hanno avuto seri problemi dal punto di vista neurologico come sapete legati anche proprio all'infezione all'infezione dal coronavirus che ha come in cui uno degli organi elettivi è il sistema nervoso centrale e in questi pazienti spesso la nutrizione si è dimostrata molto difficile da fare se non con i sondini asogazio è chiaro che la gestione di questo non è stata semplicissima perché i pazienti proprio in condizioni un po' di delirio spesso li tiravano via però è stata secondo me la scelta migliore da mettere in campo grazie in virtù del quadro fisiopatologico descritto da gattinoni alterazione della perfusione tipo L potrebbe trovare impiego in prima istanza all'ossido nitrico in caso di ipossemia refrattaria? Allora su questo io non ho esperienza di ossido nitrico quindi non non saprei so che questa è stata una pratica utilizzata prevalentemente in terapia intensiva in pazienti intubati nei nostri nei nostri pazienti intubati sono in rianimazione negli ultimi tempi si è utilizzato l'ossido nitrico e per quello che vi posso dire la la sensazione l'esperienza dei colleghi rianimatori era era buona cioè nel senso che mi hanno dato un feedback positivo in questo senso però onestamente è una come dire una risposta non soffragata da dati perché io non ho esperienza di ossido nitrico quindi probabilmente sì da quello che mi dicono probabilmente sì però i dati in questo momento non sono ancora a disposizione grazie l'uso del casco può creare una tasca di raccolta di virus eh questa è una questa è una bella domanda mh a così a naso potrei dire potrei dire anche anche di sì però eh non credo che questa sia una sia un problema per il paziente sicuramente è un paziente per gli operatori che devono montare il casco è vero che il casco aerosolizza di meno su questo non ci piove eh però la come dire la la pratica di montaggio e smontaggio del casco eh prevede delle manovre eh che sono che non sono standardizzate e non sono semplici da fare per cui questo può creare chiaramente delle problematiche e potrebbe essere eh come dire un rischio di esposizione per eh per i per i pazienti per gli operatori stessi per cui a parte poi le problematiche legate anche alle ai sistemi di ancoraggio del casco stesso perché le le bretelle da mettere sotto le ascelle possono soprattutto in pazienti che devono tenere eh questi presidi per molto tempo per molte ore possono provocare delle possono provocare dei decubiti anche anche importanti eh quindi e la pratica invece di di utilizzare l'ancoraggio del casco alle spondine o mettere dei pesi eccetera è abbastanza difficile da gestire soprattutto se c'è un paziente agitato quindi credo che queste siano le problematiche più importanti con con i caschi insomma grazie dottor Facciolongo per la sua disponibilità grazie a tutti voi per l'attenzione